In questa giornata nazionale contro il bullismo, noi studenti del Palmieri Rampone Paolo vogliamo dire no al bullismo e al cyberbullismo. Questa è una collana realizzata da dei ragazzi dell'indirizzo moda. È stata realizzata con materiale riciclato e presenta dei nodi, simbolo di unione. Mentre i ragazzi dell'indirizzo meccanico hanno realizzato questo portachiavi attorno al controllo meccanico. È composto da un dato e un bullone. Anche questo ha un valore simbolico, infatti singolarmente dato e bullone non hanno utilità, ma combinati insieme possono fungere da sostegno. Come cita la frase, la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, perché in questo caso è anche l'incapacità del bullo di gestire se stesso, anche nelle piccole cose, che nella foto viene rappresentata con la scarpa sciolta che calpessa l'altra scarpa. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Grazie a tutti